E apposso in altri motori iscritti a SuperNan Channel, benvenuti in questo nuovissimo video. No, non è un clickbait, perché infatti ragazzi, domenicali gela il mercato piloti. Dovizioso verso la firma. Dopo i test di MotoGP in Malesia, Ducati ha le idee più chiare sulle aree in cui dover puntare l'attenzione. In Qatar non sarà solo l'aerodinamica a farla da padrona, ma nel merino dell'ingegneria della rossa anche i feeling con le gomme. La nuova soft posteriore sembra givolare i motori 4 cilindri in linea, ma con un apposito lavoro di setup. Dovizioso e Petrucci non dovrebbero avere nessun problema a sfruttare il potenziale della Moto 2020. La nuova specifica del motore Desmo 16 sembra aver riportato la GP20 al top in termini di potenza massima sui rettilinei. Bisogna quindi ripartire dai punti di forza e dal nuovo telaio che si avvicina alle richieste ripetute dei piloti nella scorsa stagione MotoGP. Soprattutto in percorrenza al centro curva. Domenicali nei giorni scorsi ha dimostrato grande ottimismo in vista della stagione. Dice che hanno il potenziale per vincere il titolo. Attualmente viviamo nella Marquez che ha creato un grande rivario tra lui e tutti gli altri. Ma ci sono molti fattori che possono cambiare la situazione. Nel test di Sepang Dovizioso è apparso in lieve difficoltà. La caduta nel D2 non ha certo facilitato il programma di lavoro. Nell'ultima giornata il Forlivese, ovviamente Dovizioso, ha dovuto persino fare i conti con un problema al collo. Ogni stagione partiamo da zero in MotoGP. Ha proseguito domenicali. E tra le altre cose le nuove gomme ci costringono a trovare impostazioni diverse per essere veloci. Abbiamo sempre avuto un limite nella velocità di curva ma all'equilibrio della moto abbiamo molte idee per fare passi avanti. Nei test non siamo stati tra i più veloci ma dobbiamo guardare ad altre cose come il ritmo di gara. Quindi, ricapitolando, Ducati resta attiva sul mercato pilota fino a quando Alex Rins e Marquez non avranno rinnovato con i team. Dopodiché sarà la sfida interna al box a decretare chi merita un posto nel team Factory per il 2021. Vorremmo rimanere concentrati sulla stagione in corso, almeno quello che chiede Paolo Sciavatti, e di prendere posizione sul fatto che non cambieremo i piloti a fine stagione. Abbiamo un triplo vice campione Danilo Petrucci, si è allenato duramente durante l'inverno. Abbiamo ottimi piloti nel team Pramac come il Superbike, quindi riveleremo la nostra strategia a tempo debito. Queste sono state le parole. Voi che cosa ne pensate? Scrivetemelo qua sotto nei commenti. Vi ringrazio per aver guardato questo breve video, vi ricordo di seguirmi su YouTube, anche su Instagram e Facebook per ricevere nuove notizie sul mondo dei motori, quello che riguarda il mondo dei motori. Detto questo ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video. Bella!